È una sorta di pallone d'oro esclusivo per i calciatori brasiliani che militano all'estero, quindi la maggior parte è la crema del calcio verde oro, insomma, con tutto il rispetto per Neymar, Ganso e compagnia. Il Samba Gold è giunto alla quarta edizione, anche quest'anno potrebbe parlare il rosso-nero. Toccherà a Pato, Robinho e Tiago Silva, infatti, provare a ricevere il testimone virtuale da Kakà, che nel 2008 vinse per primo e nel 2009 venne incoronato proprio a Milanello. I terro-soneri dovranno battagliare con altri 27 connazionali, il preferito verrà deciso dal pubblico attraverso le votazioni su www.sambafoot.com. Presenti, rappresentanti della Serie A, anche il laziale Hernani, i sei tra interisti, Giulio Cesar, Maicon, vincitore dell'edizione 2010 e Lucio. Temibile in virtù della coppiata Champions-Mondale di Club, il difensore del Barcellona, Dani Alves. Non è presente, invece, nei 30 migliori, Riccardo Kakà.